Occorre chiarire ogni aspetto riguardante i pozzi di indagine già perforati in località Montegrosso nel comune di Brindisi di Montagna. E' quanto dichiara il consigliere regionale del PD, Vito Santarsiero, che annuncia una interrogazione in consiglio regionale su una questione che a suo avviso preoccupa molto sia l'amministrazione che i cittadini. Santarsiero chiede che si verifichi cosa in questi pozzi è stato iniettato e poi si dica con uguale chiarezza perché a Brindisi di Montagna è stata soppressa la locale stazione del Corpo Forestale dello Stato, organo competente a vigilare sugli stessi danni provocati dalle perforazioni petrolifere. Per Santarsiero, inoltre, la denuncia dell'On. Folino, in ordine a interferenze degli inglesi interessati al Pozzo di Montegrosso fino ad influenzare il decreto sblocca Italia, ci chiama a responsabilità importanti. Abbiamo bisogno di fermare la macchina, conclude l'esponente del PD, non un valire in più di quelli già autorizzati e non un solo permesso di ricerca per un periodo di almeno dieci anni, per avere certezza di ciò che accade a persone e territori dalle indagini epidemiologiche, dal registro tumori e dalle analisi ambientali già messe in campo.